Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto il re del Bahrain, Sua Maestà Ahmad bin Isa al-Kalifa. Nel colloquio sono stati passati in rassegna alcuni temi di comune interesse, con particolare riferimento all'impegno a favore della pace e della stabilità nel Medio Oriente, nonché alla promozione del dialogo e della coesistenza pacifica fra tutte le componenti della società. In seguito è stato rilevato il positivo contributo che la minoranza cristiana apporta al paese e il Papa ha espresso apprezzamento per l'interessamento personale del re alle necessità della comunità cattolica locale. Successivamente il re del Bahrain ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dall'arcivescovo Dominic Manberti, segretario per i rapporti con gli stati.